Il Dipartimento Viabilità e Infrastrutture della città metropolitana ha disposto la chiusura temporanea al traffico di via Settevene-Palo, tra Cerveteri e Bracciano, nel tratto interessato dalla frana della scorsa notte. A causa delle forti piogge si è infatti verificato un distaccamento del costone che costeggia la strada, tra i due semafori che regolano il doppio senso di marcia. La ripartizione opere pubbliche dell'ex provincia di Roma ha già effettuato le dovute verifiche insieme alla polizia locale e alla protezione civile. L'amministrazione comunale di Cerveteri fa sapere che vigilerà sull'andamento dei sopralluoghi e ne darà pronta comunicazione alla cittadinanza. Intanto il capogruppo di Fratelli d'Italia della città metropolitana, Andrea Volpi, attacca la sindaca Virginia Raggi. Si è evitata la tragedia per pura casualità, ha dichiarato. La strada è per lunghi tratti percorribile solo a senso unico, in virtù di precedenti frane sulle quali non si è mai intervenuti in modo risolutivo. L'ultimo episodio, ha concluso Volpi, è l'emblema dell'inadeguatezza della sindaca, incapace di risvegliarsi da un lungo letargo.